L'Istat ha pubblicato oggi l'aggiornamento sugli indicatori delle politiche di sviluppo in Italia. Un dato provinciale che suscita particolari interessi e che dovrebbe far riflettere molto è quello sul turismo in provincia di Frosinone. Scrive così in una nota il consigliere comunale e provinciale Danilo Maiocchetti. L'Istat infatti ha reso disponibili i dati ufficiali dal 2005 al 2017, circa le giornate di presenze di italiani e stranieri negli esercizi alberghieri e complementari del territorio provinciale. E la situazione per Frosinone è la seguente. Come si contesta dalla lettura completa dei dati, le presenze nelle strutture ricettive sociali è andata negli anni sempre più riducendosi, salvo una piccola ripresa negli ultimi due anni. E comunque anche il 2017 ha registrato un'ulteriore riflessione rispetto all'anno prima. In ogni caso dal 2007, che registra un picco di presenze di quasi un milione e mezzo, al 2017, quindi esattamente in dieci anni, sono state perse moltissime giornate di soggiorno. Si rileva infatti che mentre Rieti e Latina hanno perso visitatori in maniera piuttosto significativa, Latina, più di Frosinone, Roma e Viterbo invece, hanno guadagnato parecchio, la capitale addirittura più di due milioni e mezzo di presenze. Le politiche del turismo sul territorio della provincia di Frosinone negli ultimi dieci anni non hanno prodotto i risultati sperati, dice ancora Maiocchetti. E questo, nonostante la sociaria possa vantare delle attrattive di assoluto pregio e di interesse. Dal turismo religioso a quello d'arte, a quello enogastronomico. Nonostante tutto questo potenziale turistico, la sociaria, a differenza del Viterbese ad esempio, non riesce ancora ad accreditarsi come una delle mete del Lazio da visitare assolutamente.